Gli agenti del corpo forestale del distaccamento di Caltagirone su disposizione del comandante Natale Catalano hanno sequestrato su un'area di circa 5.000 metri quadri una discarica abusiva all'interno del bosco di Santo Pietro. I rifiuti, alcuni dei quali speciali in considerazione della presenza di lastre di eternite e di vecchi serbatoi dello stesso materiale, rappresentano una potenziale fonte di inquinamento. La discarica più precisamente è stata localizzata in località Pianolupo, una zona di pregio ambientale che già da tempo si prestava purtroppo alla spiacevole pratica dell'abbandono. Ma non è tutto perché nel sito inquinante sono state rinvenute carcasse di elettrodomestici, pneumatici, bottiglie di vetro e plastica, materiali ferrosi e materiali di risulta dell'edilizia. Di tutto e di più, insomma, con rifiuti sparsi un po' qua e un po' là che in alcuni casi sono perfino coperti dalla vegetazione spontanea. L'aria è stata posta sotto sequestro preventivo da parte della locale procura della Repubblica del Tribunale di Caltagirone. Le fasi giudiziarie relative al sequestro del sito sono state disposte dal procuratore della Repubblica, il dottor Giuseppe Verzera. Proseguono le indagini da parte di agenti del Corpo Forestale per tentare di risalire agli autori al momento ignoti che hanno depositati rifiuti in questo spazio, che in gergo è definito area SIC, vale a dire sito di interesse comunitario. A Caltagirone purtroppo non esiste un'area di stoccaggio per lo smaltimento dei materiali inquinanti. Il fenomeno in questo caso diviene sempre più difficile da debellare e quindi da prevenire.